Sassari EcoDigital, una Sardegna EcoDigital. Dopo il grande risultato delle elezioni regionali che hanno portato la Sardegna a essere un laboratorio di innovazione nel nostro paese, è importante che anche a Sassari, una delle principali realtà della Sardegna, una città di grande tradizione, persone come Giuseppe Mascia abbiano lanciato la sfida EcoDigital. Mettere insieme transizione ecologica e digitale, selezionare e valorizzare giovani e realtà innovative che possono cambiare e migliorare le cose, perché dobbiamo, in una regione come la Sardegna, con una grande biodiversità naturale, una grande cultura, realizzare un turismo sostenibile ed EcoDigital, rilanciare l'agricoltura, l'artigianato, la qualità delle produzioni e mettere insieme transizione ecologica e digitale. Ecco perché sono contento di far partire anche da Sassari la sfida per una forte capacità innovativa che punti sui giovani ma guardi al futuro, al creare benessere tutelando l'ambiente e creando nuove occupazioni.